Ciao a tutti ragazzi, siamo Raffi e Molly! E oggi le distrazioni non saranno mai... Piano! Passi il rotolo di carta che ho appena tirato! Piano! Cosa? Non dobbiamo disturbarlo! Ma chi? Non dobbiamo disturbarlo! Chi? Ah lui! No, la marmotta è tornata! La marmotta è tornata e non dobbiamo assolutamente disturbarla! Aspetta, aspetta, aspetta! Allora, prima cosa non è una marmotta! È una marmotta! C'è scritto marmotta ma è un urso, non vedi che è un orsacchiotto? Vabbè, è un orsacchiotto marmotta! Ok, vabbè, è un orsacchiotto marmotto! Seconda cosa, voi ragazzi dovete lasciare subito un bel mi piace! Ma soprattutto, cosa molto più importante, dovete iscrivervi! Dobbiamo arrivare a un milione di iscritti entro la fine dell'anno! Però dobbiamo assolutamente arrivarci ma solamente grazie a voi! Quindi forza, forza! Allora... E aspetta, aspetta, aspetta! Le cose non sono finite! Devo dire una cosa molto importante! Cosa non è finita? Mi passi la cartigenica perché l'ho tirata per terra! Tieni Rebby, falla tutta! Allora, no, non serve a me questa cartigenica! Però dovete sapere che oggi saremo molto birichini! Perché questa marmotta noi in realtà la disturberemo molto! Quindi la Rebby ha portato tante cose per disturbare questo video come la cartigenica, i pulsanti e lo slime e poi cos'altro abbiamo? Devi disturbare la marmotta, non me! Anche mollo! No, no, no! Allora, quindi, la marmotta è sempre arrabbiata, non si sa perché! Come mai? Quindi oggi cercheremo di farla felice! Ok! Proviamo a bussare! Marmotta! Oh! Gli ho dato un pugno! Marmotta! Marmotta! Eh, fermo, fermo, come va a esplodere! Volevo dire una cosa, qua sotto ci sono dei tondini verdi, se li vedete, e il loro livello scende e sale, perché noi dovremmo fare delle cose con questa marmotta, come farla arrabbiare, dargli da mangiare, oppure portarla al gabinetto, vediamo un po'. Ok, allora, devi andare al gabinetto, forza, falla tutta! No, hai visto? Vuoi servire la cartigenica? Capigenica? Capigenica? Allora, adesso va pulito, quindi doccia... Eh, sì, però mettilo sotto la... No, prendi il doccia! Guarda, ci penso io! Oh, così si arrabbierà sicuro! Ma chi ce ne prega? Allora, io lo farei così... Oh, così non si vede più la passa arrabbiata! È diventata una bolla! Dai, pulisci, ti forza! Anche sotto le ascelle! Si sta lavando, però! Sotto le ascelle, dove c'è i funghi! Eh, ma come i funghi! Ok, uuuh! Ok, livello 2, yeah! Vai! Ci siamo! Abbiamo sbloccato anche degli item! Ok, posso giocare un po' io? Posso giocare un po'? Guarda, nel carrello, voglio vedere... Uh, gli occhiali! Possiamo mettergli un cappello? Eh, non possiamo mettergli un cappello! Il cappello no! Gli occhiali nemmeno! Nemmeno! I moustache nemmeno! Non possiamo mettere niente! Aspetta, ancora niente! Ma noi qua ci penseremo perché guarda... No, Rebby, ti ti ando a mangiare! Guarda, uno, uno... Abbiamo uno di tutto, io gli darei questo! No, devi cliccare! Clicchiamo? Vediamo? No, no... Con la forchetta? Mettiamo un po'... Ehi, mangia! Oh, mangia! Mangia, ok! Ha mangiato! Come ha fatto a mangiare? Ho mangiato? Ha mangiato? Non lo so! Eh, mettiamola nel... Nel forno? Oh, l'abbiamo fatto che l'ha fatto! Ah, è il flash! Ah, guarda! More than I love people! Ok, eh... Posso giocare? Dai, voglio giocare un po'? Quindi a lui piace più il cibo delle persone, va bene, ok... Oh, ok! Ma cosa? Ma era buono! No, Rebby, ma gli dai le schifesse! Ma... Allora, quello picca, l'altro non va bene... L'uovo va bene? L'uovo? L'uovo? Non gli piace! Non gli piace, vabbè, comunque il cibo è... No, Rebby, basta, infatti, gli dai troppo da mangiare! Eh, adesso... Oh, vuole giocare! Gli occhi, vai, Bubble! Giochiamo, dai, giochiamo al blu! Proviamo con Bubble! Vediamo! Ah, ma è facile! Ok, allora, questo è blu! Rebby, non devi perdere, perché sennò si arrabbia ancora di più sto tizio! Oh, mamma, eh, ok... No, Rebby, non devi perdere! Sto riuscendo a... No! No, Rebby, ma come giochi? Ho piuto! Eh, male, male, sto giocando un po' male! Mamma mia, no, no, penso adesso si arrabbierà! Ma era viola quella! Ma perché me l'hanno messo lì? No! Eh, ok, forse ho sbagliato questo giochino! Eh, ma andava troppo veloce! Allora, io tornerei di qua, vediamo, allora... Eh, le tende? No, la poltrona? No, no, voglio vedere la sua casa, allora... Guarda da fuori, fai sulla casa da fuori! La casa da fuori? Vediamo! Eh, no, è un altro gioco che abbiamo già fatto, eh! Ok! La doccia l'abbiamo fatto! No, dormire, non ha sonno! Possiamo comprare qualcosa! Possiamo comprare degli arredamenti! Oh, bello! 200, bello! Allora, la televisione nuova! Vediamo! Apriamo! E cos'è? Cos'è? La televisione nuova! Ma che schifo! Ma questa televisione, però... Vabbè, l'abbiamo messa! Proviamo edit, vediamo... Eh, niente! Niente! Non possiamo fare ancora niente! Scusa, ma con le stelle? Con le stelle? Ah, no! Eh, ancora non ne abbiamo abbastanza! Allora... Comunque potremmo ancora portarlo a giocare, secondo me! Possiamo portarlo a giocare? A giocare, lì, guarda, sui giochi! No, no, non farlo dormire! Ok! Io farei climb! Adesso? Ok, dobbiamo saltare! No, no, lo fai cadere dall'albero sicuro! Vai, salta! No! Se dopo due secondi ho perso! Te l'ho detto che lo avresti fatto cadere dall'albero! Si riprovo, si riprovo! No, attenzione! Allora, vai, di qua, 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 di qua! Vai, vai, salta! Salta, marmotta! Oh, mamma! Salta, marmotta! Perché gli alberi quelli rotti si spaccano se non salta subito! Mamma mia, molle è il campione! Wow, 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 wow! No! Vabbè, però qui facciamo un sacco di soldini, perché più giochiamo e più vinciamo... È vero! ...più soldini ci danno e dopo possiamo comprarli da mangiare, possiamo comprarli un sacco di cose... Quindi per fare i soldi bisogna giocare... Tocca a me, basta! No, cambiamo gioco, basta! Ok, cambiamo gioco, cambiamo gioco! Cambiamo gioco! Allora, vediamo un po'... Mix! No, quello! Oh, bello! Fruit ninja! No, ninja fruit! Ninja fruit! Vai! Sì! Ok, dai i soldi, eh, vediamo! Questa cosa mi piace! Ma lei mi ne da dieci ogni volta che rompi qualcosa! Wow, no! No! Non farlo, eh! No, no! La marmotta dopo si odierà per sempre! Guarda quanti soldini sto facendo! No, non so che se quelli sono i soldi, magari! Vabbè, però sta andando bene, eh! Vai, Reby! Guarda, ninja fruit! Vabbè, ma per ora è facile! A me piaceva tantissimo ninja fruit! Eh, ma secondo me fra un po' arriverà la frutta insieme a delle bombe! Vediamo! Vabbè, dai, per ora è facile! No! No, meno uno! Se non prendi la frutta da una vita in meno! No, 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 sta arrivando troppo veloce! No, no, aiuto! Ragazzi, è difficile! No, no, no! Io posso provare? Ho solo due vite! Posso provare? No! Dai, fammi provare! Tocca a me! Mi hai fatto sbagliare! Beh, basta, basta! Allora, torniamo indietro e vediamo se con questi soldi possiamo prendere... Ma abbiamo un sacco di soldi! Ecco, adesso possiamo comprare tante cose! Allora, il cibo! Uh, vediamo! Io li prenderei! Vabbè, questo cibo è spazzesissimo! No, è il pollo, il pollo! No, però guarda, non gli piace! Come non gli piace? Vedi che se la faccia inarrabbiata! Eh, vabbè, ma dovrà comunque mangiare! Eh, ma dov'è la faccina felice? Ah, no, non si sa! Perché guarda, non si sa quanto fame, quanto gli piacerà! Ah, ok! Allora, vediamo! Poi le veggy, le verdure le deve mangiare! Le verdure? Che schifo! Una bella cipolla! No, che cos'è? No, no, no! È radicchio poi quello! Allora, torniamo indietro! Frutta, dessert, dai! No, aspetta, ho visto una cosa! Chocolate bar! No, ho visto una cosa! Cosa? Guarda! Le possioni! Le possioni! Allora! Energy, XP, Max Potion! Mmm! Niente, dai, costano troppo! No, niente, ma costano troppo! Drink! Desert! Tia! Te! Oh, il Grimman Shake! Il Grimman Shake! Vai, il Grimman Shake! Diamoglielo da mangiare! Ok! I dessert, i dessert! Aspetta, gli voglio dare il Grimman Shake! Vai! Grimman Shake! Eh, buono, Grimman Shake! Non ha fame, forse! Grimman! Ah, non si può, perché non ha fame! Deve andare a dormire! Anche se non ha molto sonno, spegni la luce, buonanotte! Ok, dai, facciamolo dormire! Sveglia! Dormi, dormi! Dormi! Sveglia, sveglia, dormi! Si è arrabbiato, si è arrabbiato! Vuole dormire! Sveglia! Dai, così lo farai arrabbiare! Guarda, vuole dormire ancora! Vai, dormi! Attenzione! Ma se sveglia! Mamma mia, Molly, sei insopportabile! Fallo dormire! Ok, guarda, sta già crescendo la lineetta, guarda, lascialo dormire un altro po', perfetto! Sta già crescendo! Dai, dai, un altro russo! Un altro russo! Un altro russo! Allora, io intanto giocherei mentre dormi, si può! Ok, va bene! Eh, non credo! No, l'abbiamo già svegliato, ragazzi! Allora, giochiamo! Mix, non l'abbiamo fatto! Add one heart! Attenzione! Ok, bisogna... Trovare quello sbagliato! Quello sbagliato! Eh, quello! Quello! Perfetto, quello verde! Questo! 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 Ok! Con lo marrone! Con lo marrone! Abbiamo 50 secondi! Quello! Dobbiamo fare il più veloce possibile! Questo! Ok! Questo! Questo! Mamma mia, sono bravissimo! Quello lì, quello lì! Oh, mamma! Eh, quello! Questo! Questo! 36 secondi! Attenzione! Quello! Mamma mia! Quello! Questa, te lo sto capello, non c'è niente! Questo! Questo! I capelli! Questo! 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 Secondo me i vanno sono più veloci di noi! Eh... Quello! Questa! Ma cos'era? 15 secondi! Eh, ok, ma... Oh, mamma! Quello con gli occhi chiusi! Oh, mamma mia! Quello in basso sinistra! Quello con la maschera! Ah! Aiuto! Ah! 6, 5, 4, 3, 2, 1, sulle mani! Siamo arrivati al livello 3, eh! Ci hanno regalato! Ci hanno regalato da mangiare! Ci hanno regalato da mangiare! Ok, basta, però questo non lo voglio fare più! Vediamo un po' che cosa è successo! Beh, diamo lì da mangiare! Vediamo quanto c'è! Il Grimann, dagli il Grimann! Gli diamo il Grimann! Dai il Grimann! Il Grimann! Magna! Non ha fame! Non ha fame! Non ha fame, ragazzi! Vediamo se possiamo comprare qualcosa! Edit! Puoi cambiare! Bello! Così ci piace! Vai, così ci piace! Ma io voglio comprare le cose! Poi, aspetta! Proviamo a editare il piatto! Così? 500! Ah, è qui che si compra! Qui si compra! Vabbè, ma questo ci piace questo colore! Sì, questo ci piace! Vediamo, gli spaghetti non mi piacciono! Ah, l'anguria! Se no... L'anguria! Aspetterei però, eh, dai! Non è un altro punto! Compriamo nella stanza da letto, dai! Compriamo questa! No! Guarda! Vai, compro! Queste... No, dai, sono brutte! No, bianche va bene! Dove vogliamo comprare? Compriamo qualcosa... Non vogliamo scioppare! Gli occhiali! Oh, compriamogli un po' qualcosa! Il cappello! Grumpy's numero uno! Mille! Questo! Non ce ne abbiamo! Ma costa un sacco sta roba! Quattro! Quattro ne abbiamo due! Ok, la cravattina! Questa è bellina! 500! Mamma mia! E costa troppo, però! I baffi! Verdi! I baffi verdi! Vai, prendigli i baffi verdi! No, dai, vuoi mettergli i baffi dei... Gli occhiali! Gli occhiali! No! Non possiamo... Non possiamo prendere... Quelli carambelli! Eh, ma non possiamo! Posso giocare? Ma gioca io, devo che a me! Allora, aspetta! Devo andare a fare dei giochini! L'ultimo gioco! Sì, dove erano i giochini? È lì! Ok, qua! Cosa manca di giochi? Il mix! Cosa? No, vabbè, dai! Attenzione, così, così, così... Ma che è? Così! Ma è difficile! È difficile, infatti! È qua, infatti! Oh, mamma! Qua si complica! Ma questo soco è strano, ma cosa devi fare? Qua si complica! Si complicano le cose! Lui là sotto, intanto, è arrabbiato, guarda! Attenzione, qua si stanno complicando le cose, eh! Perché qua, qua come si... Qua come si mette insieme? Ragazzi, ma non si sta capendo niente! Ma sto soco è difficilissimo! Ma è difficile, infatti! Si sono un sacco di numeri, però abbiamo fatto un bel po' di... Guarda, abbiamo fatto un sacco di mosse! Attenzione, attenzione, e ho finito! Ho perso! Vabbè, fantastico! Ho perso! Basta, cambiamo gioco, basta! Ho perso! Questo non mi piaceva! Game over! Però 31 monetine ci ha dato, eh! More games! Non ci sono più giochi! 31 monetine abbiamo fatto! Allora, io direi di fare una cosa! Eh, lo mettiamo a dormire! Mettiamo a dormire, anche se non ha sonno! Buonanotte! Buonanotte, sogni d'oro! Allora, ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto! Fatesi sapere se dobbiamo provare altri giochi della marmotta! E soprattutto se la prossima volta dobbiamo andare a dare da bere alla nostra marmotta il Grimanshake! Ciao ragazzi! Ciao! Alla prossima! Ciao! Grazie a tutti.